E' di 1.298.000 euro l'ultima perdita fatta registrare dalla regione Basilicata negli ultimi sei mesi del 2018 per effetto dei contratti derivati. Una scommessa finanziaria costata all'ente di Viale Verrastro circa 48 milioni di euro. I derivati sono contratti stipulati con le banche che impongono alle parti di chi li sottoscrive di scambiarsi somme di denaro. La Basilicata nel 2006 assume l'obbligazione di versare a due banche Dex e Accrediope UBS per un arco temporale di 13 anni una somma pari a 4,25% di un determinato valore per tutelarsi dai rischi legati alla sottoscrizione di un mutuo non facendo i conti con la crisi dei mercati finanziari che nel 2008 ha fatto crollare i tassi. Il consigliere di Fratelli d'Italia fu tra i promotori di una risoluzione che in consiglio regionale impegnava la Giunta a chiedere l'annulità dei contratti. Una risoluzione approvata tra l'altro all'unanimità. Questo dimostra come questo governo a guida pittella abbia completamente fallito negli obiettivi. Si presume che siano circa 48 milioni gli euro che la Regione Basilicata ha disperso a seguito di questa scellerata operazione finanziaria. Inoltre, come evidenzia il consigliere, l'ente regionale non avrebbe allegato ai documenti finanziari la nota integrativa sui derivati così come previsto dall'ufficio parlamentare di bilancio. Questa è un'altra grave lacuna che la Regione Basilicata fa registrare. Vi è una chiara direttiva dell'ufficio parlamentare che indica alla Regione, alle Regioni che hanno fatto contratti in derivati, hanno stipulato contratti in derivati, di fare annualmente una nota integrativa nella quale vanno indicate non soltanto le perdite magari fatte registrare, ma anche quelle che sono le previsioni per gli anni a venire. È esattamente quello che la Regione Basilicata non ha mai fatto e si è sottratta dal fare, con evidenti, chiare responsabilità di natura politica, ma se vogliamo anche di natura amministrativa. Grazie. Grazie. Grazie.